Centinaia di manifestanti in piazza domenica a Parigi per esprimere opposizione totale al quinto mandato del presidente algerino Abdelaziz Bouteflika, che per loro rappresenta un sistema illegittimo e corrotto. La piazza della Repubblica, nel centro della capitale francese, i canti e i cartelloni erano chiari. Non vogliamo più Bouteflika, abbiamo bisogno di tempo per preparare le nuove elezioni e trovare il giusto candidato che possa finalmente rappresentarci. Questo ulteriore mandato è legittimo, una provocazione, la mobilitazione popolare è un avvertimento pacifico, per dire loro stop. Imporre un presidente che non si vede dal 2013, che non parla, che non fa nulla, credo che non sia neanche cosciente di quello che avviene. E vogliono rimetterlo? La grande comunità algerina di Francia si è radunata in parte anche a Marsiglia e in altre città europee, Londra inclusa. Ma intanto, formalmente, la candidatura del presidente uscente è stata depositata. In fermento ci sono anche le opposizioni ufficiali all'oligarchia, che ha preso in ostaggio il corpo malato del vecchio presidente. La loro forza sta nel sostegno di buona parte dell'esercito. Grazie. 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 Grazie.